Sono tutte belle le mamme del mondo Quando un bambino si stringono al cuor Sono le bellezze di un bene profondo Sì, sono tutte belle le mamme del mondo e anche i loro bambini Ma non sono tutte uguali Invia un sms al 45519 O fai una telefonata da fisso Proteggi con il CESVI la salute di mamme e bambini 45519 Salva i bambini Regala vita alle mamme